eccolo il chat guardate il gioco becca il microfono quindi se io parlo così il mostro mi sente chat dovete sta zitti non mi fate beccare dal mostro vi spacco il culo hai preso la peste bubonica gamers ma che cazzo la dici allora fortunatamente come potete vedere questo gioco viene visualizzato a quest'icona significa che bla 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 ecco alcuni vocali ecco alcuni comandi che è possibile pronunciare me li sono scritti what do you want can you help me is anyone there l'ho detto almeno 40.000 volte in quella live are you friendly where are you show yourself go away do something what happened can you see me dato che non sapete l'inglese ve li traduco allora what do you want significa can you help me significa tipo si avete capito chat insomma allora cambiare lingua mettiamo l'italiano perché sto pazzo si ha detto guardate che cosa carina che ha detto come sviluppatore come sviluppatore solitario creo progetti con passione e dedizione garantisco la qualità e se abbonatevi al canale della serie a due gambe imparando costantemente nel corso e dato l'elevato interesse per il titolo ho deciso di tradurre lo stesso gioco in 12 lingue il che non è stata una sfida facile chiedo la vostra comprensione abbonatevi al canale di sedia in caso di eventuali imperfezioni nelle traduzioni abbonatevi ragazzi mi raccomando importante l'ha detto lo sviluppatore del gioco avrà visto il gameplay l'avrà visto probabilmente comunque probabilmente dovrò vedere 2000 volte le frasi che devo fare ma in ogni caso qua si dovrebbe vedere tranquillamente si comincia chat purtroppo sono già abbonata starlet grazie dei sei mesi ciao sfigati mettete la crema solare allora innanzitutto non chiamare la chat sfigati perché dal messaggio che leggo mi sa che ti sei beccata qualche tipo di insolazione in ogni caso grazie dei sei mesi un bacione starlet mi raccomando metti la crema solare pure tu ok si comincia assicuratevi di giocare con cuffie e microfono godo si comincia chat e con chi pensavi di star scusami si vede bene si vede bene godo scusami devo assoluta no ma perché continuo a parlare allora Robin io volevo leggere il tuo messaggio ma ci siamo nel cercare di leggere il tuo messaggio ci siamo persi la lore grazie mille dei cinque mesi e ti mando un mega iper bacione non so mai cosa dire vi voglio un sacco bene ma fra devo iniziare l'investigazione posso ricominciare da capo no non ricomincio da capo non si può mettere pausa figo avete detto alzo un po' il volume alzo leggermente il volume però è già molto alto secondo me è possibile accendere e spegnere le luci allora cominciamo a vedere ma è un carlino che schifo i Funko Pop che schifo allora ci abbiamo i Funko Pop ci abbiamo una cucina decisamente poco ordinata c'è un cane chat non c'è bisogno non c'è bisogno di emozionarsi per un cane santo Dio allora vediamo che cosa ammazza però che tempo che c'è fuori io adoro sto tempo dovete saperlo ma Mr. Jake Funko Pop ma che cazzo c'entra Mr. Jake eh cioè volevo dire che cosa c'entra Mr. Jake non posso dire le parolacce chat what the clock va bene allora cerchiamo di capire di che cosa si tratta questo posto delle cose c'è un bagno qui non c'è nulla qui c'è una stanza living room si chiama in inglese questo è il meteo di Bologna dico poi di qua c'è un buco non so che cosa ci va qua tipo uno sgabusinos qui c'è uno sgabello god raga ci siete anche voi ma la stanza sembra finita muovete la camera per trovare indizi e esaminarli c'è un tempo di merda ci sono altre luci o ci sono solo queste ragazzi io mi sono dimenticato che questo è un gioco horror è casa mia this is the living room e mi sono dimenticato che è un gioco horror e quindi che mi potrei cacare addosso mentre lo gioco tutto nella norma io non mi posso vedere allo specchio come al solito se spengo la luce se accendo la luce ho visto ora e non è sempre colpa mia mi sento offesa sappi lo sai di anche raga è stata una pessima pessima idea è stata una pessima idea è stata una pessima idea non c'è l'icona del microfono quindi chat chat è stata bru... come si accende la luce? ma non vedo niente alzare la luminosità ah vedi mo si vede mo si vede meglio secondo me non si vede comunque una leppa ok ora si vede meglio chat dovreste vedere meglio il cambio di emozioni del creatore chat io non certe cose non le capisco cioè secondo me c'è c'è un mondo da vedere wow 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 corridoi corridoi capirà dopo la live probabilmente va bene che cosa c'è qua? ma le luci si possono anche accendere tipo wow goddess ditemi se vedete in live dovrebbe dovrebbe vedersi bene che c'è scritto? ah sono robe c'è un altro Funko Pop ma perché ci sono tutti sti Funko Pop? mia mamma che si è incansata per la live perché? perché ho detto una parolaccioas impossibile c'è scritto non c'è scritto palle allora di qua si torna di là quella luce non si accendeva prima da quanto tempo youtuber ti senti guarda un po' chi è tornato in live e doveva annunciarsi proprio con la donazione più grossa come stai? bello mi dispiace l'altro giorno non sono potuto venire in vocale sarei voluto venire volentieri ma ero fuori grazie della donazione comunque veramente oh abbiamo un computer not now va bene bro se un giorno ti dessi 100 euro faresti una live su Poppy Playtime 2 e 3 si va bene lo accetto lo accetto pessimo momento grazie dimmi della donazione bentornato chat salutate dimmi mi raccomando allora è successo un patatrux ma si esce fuori tipo si è spenta la luce della cucina perché non la posso riaccendere ora va molto meglio però io ho paura dei videogames veramente ho paura dei videogames sono davvero terribili i videogames che poi c'era scritto il gioco dura due ore io non so se sopravvivo allora amici del webs come si chiama il cane Paolo Paolo Bonolo normale ma la caga smiscia quando non lo so non lo so allora abbiamo degli indizi però mi ha detto ok no è tutto a posto è tutto a posto era era da qui l'ho sentito c'è un altro Funko Pop ma perché ci sono i Funko Pop sta sponsorizzato questo chat mi sto cagando mi sa che fare la cacca prima della live non è bastato mi sa de no mi sa de no mi sa mi sa mi sa mi sa di no devo vedere qualcosa per caso interessante posso interagire con la porta no con questo se spengio la luce niente è così il tuo letto Ash ragazzi non è il letto di Ash a meno che non è alto tipo 50 cm allora qui non c'è nulla credo a parte il Funko Pop ma perché i Funko Pop ma perché i Funko Pop vabbè non c'è nulla qua si torna indietro e di là si fa il giro questa è la maschera di pietra di Jojos Bizarro Adventures posso avrei accendere tipo la luce qua no grazie ma che cosa c'è è una foto strappatos allora final notice di qualcosa probabilmente boh forse dovevano essere cacciati di casa o qualcosa del genere non devo toccare le sue cose personali che Buddhas allora va bene di qua non c'è nulla allora se è come l'altro gioco e se è come l'altro gioco è come l'altro gioco belli sti disegni veramente veramente belli non sono per niente poco amichevoli oh questa è una nuova stanza non l'avevo vista posso accendere la luce le mie palle c'è stato un brutto tempo c'è un brutto tempo chat purtroppo è brutto tempo ma perché non posso accendere la luce ma non c'è ti sì ma non ma io non vedo ma io non vedo ma poi si sente il suono da di là ma perché di là si sente il suono scusami ma continua tempo normale a Roma bello 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 ho alzato tantissimo la luminosità quindi non penso sia quello il problema sì sì ho tutte le si è accesa la luce chat si è accesa la luce perché si è accesa la luce c'è stato un problema secondo me con allora questi qui aspettavano eh grazie aspettavano un bambino how long do I have to wait interessante interessante molto interessante davvero puoi cambiare anche immagine se io clicco questo no sì al momento non è possibile utilizzare la funzione riconoscimento vocale chiaro chiarissimo va bene l'ho vista l'ho vista qui ce ne sono altre ma credo che quella fosse quella importante adesso ho una paura fottuta ad uscire qua fuori e si è ripento tutto sì questa porta prima non era aperta ora mi sa che è aperta questa porta prima era chiusa qua dentro non c'è chat mi sto veramente ho la pelle d'ocas brutta pelle d'ocas qui dentro è cambiato qualcosa? e mi pare de no qui fuori è cambiato qualcosa? no chat non mi devo cacare addosso ok? già l'ho fatta qua non devo toccare le sue cose personali l'aveva già detto troppo gaming sedia invece di giocare a supernatural provo a giocare a amnicio a the bunker morirai dal terrore chat ma forse voi non avete capito che io non ho proprio io non ho proprio un grande rapporto con i videogame horror perché mi caco addosso e se mi caco addosso non è divertente perché poi boh mi caco addosso cioè non è divertente per me per voi sarebbe sarebbe una cosa the bunker è un capolavoro va bene eduardo fa cose dovete sapere che è un gran che è un grande fan dei dei videogames horrors il bagno prima era acceso ma perché non si vede dove devo cliccare mannaggia la miseria ma perché non lo vedo? ah di qua oh non si accende meglio andarsene via ah ecco ecco luce accesa bene grazie grazie devo stare qua ti ringrazio per avermelo fatto capire ora mi vuoi far capire altro? di là o forse c'è qualcosa qua che devo sapere poi ok si è sta oh eh dove era l'interrottone? oh oh no oh no no non sono anche su twitch streamo solo su youtube tra l'altro questa live sarà ricaricata sul canale archivio ragazzi punto esclamativo archivio iscrivetevi al canale mi raccomando e se non l'avete fatto oggi è uscito anche un episodio sul canale di gaming andatelo a vedere mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella se non l'avete attivata per questo canale siete proprio dei baboon sinceramente allora di qua c'è un luogo che non ha il non iscrivetevi ash non andiamo d'accordo se fai così eh va bene direi direi che questo è il momento questa porta non è ah un po' di luce ti ringrazio e si iscrivetevi maledizione allora ragazzi mi dite che devo fare ah quella stanza si è spenta è il momento di andare in quella stanza magari succede qualcosa si però dammi qualche indizio ti scongiuro ti prego per favore per favore comando io questa chat secondo voi devo fare il balletto di fortnite? avvicinerebbe il mostro del gioco? allora andiamo dal cane sicuro lui avrà la risposta minchia quanto fa rumore i carlini hanno dei problemi ne sono certo ragazzi io non lo capisco sono andato di là devo assolutamente guardare le cose ma qui cosa mi stai facendo guardare? perché dovrei vedere il telefono? sto zitto 95.331 dollari e quando li paghi sti soldi? dove li devi cacciare? ok quindi praticamente avevano un problema di mutuo e se posso dire cioè ti fai la casa gigantesca hai problemi di mutuo insomma vai in bilocale non lo so certo chiaro quindi praticamente quindi sostanzialmente quindi sostanzialmente loro avevano problemi di debiti c'è stato qualche problema con qualche gravidanza hanno un carlino i problemi non fanno che continuare ad arrivare allora vediamo se posso riaccendere la luce che non vedo oh grazie a dio ci avranno avuto qualche problema pure con l'installazione degli aggiornamenti di fortnite ne sono sicuro allora qua ho visto tutto se non sbaglio ma poi ma poi c'hanno una casa gigante si è make your home among friends among us scusate scusate scusatemi bro c'è una cosa che si chiama è un coco che fa bu pazzi personalizzati raga cos'è raga che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è are you friendly no niente non lo posso dire è il gatto di Gaia non è così che funziona ok non posso vedere la loro roba che mi manca da vedere qui c'è una lucetta figo qui non c'è una luce no qui c'è una cosa è il carlino team ma che regalo ma sei pazzo ma sei fuori di testa io non so io non so come cioè lui arriva lui manca per boh è tipo sei mesi sei no almeno tre mesi 100% tre mesi perché da quando da quando ho cominciato a fare live su youtube non ti ho più visto che è successo? cos'è? questo? di me accedi? hai dimenticato la password ehi Kylie se dimentichi la password puoi smettere del tuo computer per la centesima volta ho sparso le tue figure giocattolo per la casa ho etichettato le scatole col tuo login e la password il primo è sì però non mi suonare la cosa è chick cow rabbit shark cat a posto la password inizia con fishy ma fishy non c'era seguito da io mi amma sedia non mi lascia donare 50 dimmi altri un'altra donazione per piacere grazie fra chat chat vi giuro muto il suono chat vi giuro muto il suono allora 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 clan katsky fish fish ted teddy robot cool e clown clown sono io di me di me grazie grazie infinite grazie davvero però puoi smettere di suonare per piacere grazie mille grazie mille grazie mille Grazie di me. Mi fa male il braccio. 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 Mi ha fatto male il braccio. Mi ha fatto... Ah! Ah! Ho avuto un... È fortissimo questo jumpscare. Porca puttana! Stai zitto! Stai zitto! Questo suono di merda! Di me... Di me... Di me... Hai regalato... Quanto sono? 50 sub hai fatto? No, 40. Vabbè, comunque... Io non so... Fra... Cioè... Sei tornato fortissimo. Poi l'altro giorno su Discord... Hai fatto un macello. A una certa ho scritto... A grogo ho scritto... Tutto a posto con di me. Grazie. Ecco. Ecco. Almeno adesso ti sei abbonato... E basta. A posto. Grazie. Grazie. Ti ho salto. Oh Dio. Che devo fare a 600.000 iscritti? Non ho capito. Questa cos'è? Robotsky. Robotsky si gira? Cioè, dove lo devo prendere io? Il coso di Robotsky, scusami. Ma devo vedere un... Un codice? 4. Ok. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. No, un'altra volta no. Un'altra volta no. Un'altra volta no. Un'altra volta no. Dai. Un'altra volta no. Perché un'altra volta? Fico. No joke. Mi sto... Mi sto spaventando a morte. Oh no. Non si accende la luce. Ma serio? Ah, si è accesa. Grazie a Dio. Questo è il rabbit. Rabbit c'ha il 2. Raga, io ho paura, però. Io ho paura. Io vi giuro. Vi giuro, vi giuro. Paura. Ho paura delle cose. Mi giuro, raga. Anche se non ero qui, non mi hai mai smesso di abbonate. Ma infatti è vero. Ma infatti ogni tanto lo vedevo. E ho detto, vabbè, di me è nelle retropie. Sta coi fili di dietro. È verissimo, di me. No, no, no. Ma lo vedevo. Ma lo vedevo. Infatti la domanda me la facevo. Dicevo, vabbè, ma sarà il periodo, ho detto. Santo il Dio. Ce n'è una, ma non la posso vedere perché non posso accendere la luce. Perché non so dov'è la luce. Dov'è la luce di questa stanza? Te ne prego, te ne prego. Dimmi dov'è la luce. Where is the light? Oh, qua? Ah, ho visto un pallino spuntaro. Oh. Oh, 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 oh. No. Non era un pallino. Oh, l'ho visto. Di nuovo? Cosa? Va bene. Eh, questa luce non la posso accendere. Proverò ad andare giù, dove ci sono altre cose, immagino. Sedia, ora la domanda. Il mod di cosa? Di Discord? Non lo so. Di, di... Oh, no, 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 no. Ti prego. C'è qualcuno qua? Non mi spaventerà mai vicino al cane. Non mi spaventerà mai vicino al cane. Sarebbe davvero poco carino da parte sua. C'è il posto. Raga! Oh, ma che è stasera? Ah, Massimiliano ti riferi via a quello. Pane, ma... Fatemi accendere la luce, fatemi accendere la luce. Grazie. Allora. Stavo giusto, dicevo. Ma state tutti pazzi stasera? C'ho il posto attaccato al tuo PC con Liban salvato come contatto principale. Hai visto i prank che vi sto facendo su Discord? Sono divertenti. Per me sicuro... Per me io veramente mi squaglio da ridere. Sette. Sette. Ted... Teddy? Teddy è sette. Ok, ragazzi. Ci abbiamo quasi il codice. Abbiamo tre su... Veramente tanti questi codici. Veramente tanti. Allora, ne dobbiamo trovare un altro. Possibilmente... Perché questa porta adesso è semi chiusa? Perché quello adesso è aperto? Perché io... Voglio morire? In questo preciso istante? Vabbè. Vabbè. In realtà non serviva questo istante per morire. Posso accendere la luce del bagno? Luce del bagno? Niente? Niente? Ok. Ma Teddy non è quel personaggio dell'omonima serie di videogames giochi Five Nights at Teddy's? Mi hai fatto ridere. I give you that. Sette, a Totti sta arrivando. Ragazzi, non mi potete dire, Totti sta... Ah! Allora, era... Era Bruno che mi ha detto... Mi ha scritto un messaggio Bruno su Discord, mentre tu mi hai detto Totti sta arrivando ed è partito un suono. Io vi voglio bene, ragazzi. Vi voglio bene. Basta. Basta. È il mio unico... Non mi... Non mi sono cacato per la notifica. È partito qualche altro suono. Ok? E adesso mi sto cacando addosso per altro. Sì, però sta cosa che non vedo dove cazzo no, la sono i... Eh, grazie. Dove sono i... Grazie per la live sedia. È stata una giornata dura. Adesso è iniziata la mia. Giornata dura. Ecco. Sì, ma io non li troverò mai tutti. Ne ho visti tipo cinque in tutto. Ce ne sono tipo dieci. In totale. Oh mio Dio. C'è una figura dietro di te. Va bene, ragazzi. Siete davvero poco... Poco simpatici oggi. Ah, c'è qualcosa? No. Ma poi perché doveva presentarsi in quel modo? Scusami. Cioè, scambiamoci i numeri di telefono. Scriviamoci su WhatsApp. Perché... Perché il... Il mostro si doveva annunciare nel modo peggiore di tutti. Cioè, saltandomi addosso. Porca Eva. Antipatica. Davvero antipatica. Davvero. Davvero antipatica. Molto antipatica. Molto. Molto. Non so se... Vabbè, scivato. Tanto che me ne importa a me. Qua c'è qualcos'altro. A parte il suono terrificante di questo coso. Questo. Cazchi. Tre. Ok. Ragazzi, qualcuno mi può vedere su internet il codice. Non mi saltare addosso. Non mi saltare addosso. Spacco la faccia. Sì, però puoi smetterla per piacere. Questo suono è veramente molto fastidioso. Si può stutare? Spegnere cose? Non mi saltare addosso di nuovo. Non mi saltare addosso di nuovo. Non mi saltare addosso di nuovo. Non mi saltare addosso. Palle di Paolo. Palle di Paolo. Amen. Scusatemi. Davvero, davvero antipatico. Kauschi. Nove. Non mi... Kau nove. Kau nove. Kau nove. Kau. Kau nove. Dovevo vederlo prima, sto scaffale di merda. Ehm. C'è un rinoceronte. Ci sono le cose. Non c'è altro. Non c'è altro. Non c'è altro. Ma poi perché la signora delle fosse? Le signora delle cose? La signora delle... Ce ne sono altri? Non ce ne sono altri. Ho paura di uscire adesso. E io esco perché sono... Impaurone. Ok. Great. C'è qualcosa nel bagno, per caso? C'è un mostrus? C'è un... Ah, ciao. Sharkski. Sei. Cristo santo. E adesso mi cacherò addosso perché mi uscirà dal culo. Vuoi vedere, eh? Cento, cento. Ok. Non mi è uscito dal culo. Dal culo. Ragazzi. Sono spaventato, ok? Non parlare. Raga, non... Di solito... Esce il... Esce il... Esce il... Esce il... Esce il... Bro, vuoi un consiglio? Sì. Sì, 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 sì. Di me, non c'è bisogno di dire questi termini, per favore. E sì, comunque, mi spavento facilmente se è quello che mi stai dicendo. Raga, ma perché qua non si può accendere la luce adesso? Ecco, vedete? Questo è il mio problema con i videogames. Si poteva accendere la luce. Si poteva accendere. Si poteva accendere la luce. Non mi spaventare. Qual è la luce di questo? Oh, grazie al cielo. Kulski. Quanto è? Uno. Non mi spaventare. Ciao, Bruno. Prima mi hai fatto cacare addosso perché mi ha pingato Discord e c'era Sommo che in quell'esatto istante ha deciso di dirmi a sedia Totti sta arrivando. Voglio solo dirti sta cosa. Allora, sentite una cosa. Io... Vado al computer, vado al computer, vado al computer, vado al computer. Vado... È una canzone. Scusatemi. Ok. Ci vado per... Ci vado per... Logica, no? Allora, l'accesso. L'accesso è 8... 8, 9, 2, 6, 3. Chiaro? E la password è... Allora, teoricamente abbiamo dei numeri sper che sono il 5 e lo 0. Sì. Quindi ora io farò... 0, 7... 4, 1, 5... E ha funzionato. Ha funzionato. Non c'era bisogno di vedere quali erano gli altri. Madonna. Madonna. Sono solo un po' stanco. Non so chi è lei. Non so chi è lei. Non lo so. Questa intelligenza artificiale sono così realistiche. No. No, non credo. Che ciò ha detto. Che ciò ha detto. Posso... Perché il cane è nel bagno? Ammazza, signora, però, eh. Questo non me lo potete fare. Ma io mo' che devo fare? Ma io mo' che devo fare? Alessandro, ciao bello. Come stai? Grazie dei 17 mesi, Ale. 17 mesi. Se rivengo a Torino ti picchio. Va bene. Ehm... Ah, mo' è sparita. Va bene. Ci sono... Vabbè, devo andare dal cane. Posso andare sul World Wide of... Giggle. Vado. Skibi di Toilet. Episodio 58. Perché non me lo trova? Vabbè. Prossimamente. Ah, non mi spaventare. Non mi spaventare. Non mi spaventare. Non mi spaventare. Non mi spaventa... Mi ha comunque spaventato il fatto di essermi girato. Allora. Sta facendo le motte. Non mi spaventare. Don't spavent me. Don't. Cane. Ma che stai rompendo le palle? Ah, non sapevo stesse app per la... Per la lore di Skibi di Toilet, il fantasma, eh. Crawler. Hmm. Deve conoscere la lore, ragazzi. La lore di Skibi di Toilet. È molto probabile. È molto probabile. Vediamo. Vediamo che dice. Crawler. Bene. Allora. Ricordando la signora Susan Crawler. Una tragica perdita fa riflettere su una comunità sulla salute mentale. Il 15 luglio... Blablablabla... Blablabla... 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 Vabbè, insomma. Ah, ok. Possiamo sapere qualcosa di interessante, però. Non potremmo usarlo contro di lei, però. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente. Un membro caro alla comunità. La signorina Crawler è una nota per il suo cuore gentile e la sua generosità verso gli altri. Sì, si è visto prima. Ha cercato subito di abbracciarmi. Sede, il Crawler è un elemento fondamentale nella lore degli Skibi di Toilet. Come puoi non sapere? No, è... E che sono... In realtà lo sapevo, lo sapevo. Faceva volontariato presso il centro anziani locali, dove trascorrevano i numeri voli l'ore... Lo... Ore... 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 A lavorare a maglia, coperte, i suoi vicini la descrivo come un'anima gentile, che aveva sempre un sorriso sul volto, un caloroso saluto. Tuttavia, nonostante la sua personalità estroversa e la sua dedizione ad aiutare gli altri, la signorina Crawler ha lottato contro la depressione e l'ansia per gran parte della sua vita. Era in cura per questi disturbi, ma sembra che anche con la terapia e i farmaci non riuscisse a trovare pace dentro di sé. Giorni successivi alla sua morte, la città si è riunita per a notare la memoria di sinodizionale, cerimonia commemorativa, rendere omaggio, significava tanto per loro. Due anni dopo le ferite del suicidio e della signorina Crawler sono ancora crude nel cuore di coloro che la conoscevano meglio. Vabbè, insomma, purtroppo... 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 Non mi spaventare, Crawler! Grazie. E perché adesso mi deve rompere le palle a me, la signora Crawler? Cristo Dio. Ora fammi un rassunto. Donna si è ammazzata, gente triste, fine. Grazie, pane, per la donazione. Ho paurissima! D'ora in poi, il mio figlio è morto. Il mio figlio è morto. Ah! Allora, dovete sapere che... Posso regolare l'al... Posso regolare? qua... Va, va, va... Va, 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 va... Va, va. Ciao. Ciao. Raga sono riuscito a regolarla Però Eh si Eh Can you help me? Ma perché non funziona? Mannaggia le palle Dov'è il cane? Dov'è la luce soprattutto? Luce? Can you help me? Evidentemente no Ah Mi ha fatto del male Mi sono fatto male What happened? What happened? Ma non lo rileva? Can you see me? Scusatemi eh Can we kiss? Can we kiss? Non lo dico Le telecamere saranno il vostro terzo occhio Chiaro Andiamo a vedere le telecamere Can you sparire please? Mi chiamano di nuovo Hello senior Esta Esta una chiamata Una chiamata Mucha 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 interessante Esta è Esta è La mia La mia rutina Esta è la mia beauty routine Vabbè Fortunatamente c'era il coso Mi sta chiamando di nuovo Pronto Eh Sto zitto Eh È morta qualche tempo fa Tre anni Non è assurdo? Eh 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 Le telecamere saranno il tuo terzo occhio Ti ringrazio Posso avere delle Non vedo niente Però Giusto Ah 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 Terzo occhio Non so Ma sicuramente Il secondo buco c'è Quello sicuro Io vi giuro Io vi giuro Mi sta distruggendo Mi sta distruggendo Mi fanno male Ogni volta tiro Mi tirano i nervi Mi tirano i nervi Buono a sapersi Chi è che mi scrive su Discord? Non mi... Pane? Che c'è? Tu al prossimo jumpscare Yeah pretty much Non mi spaventa di nuovo Sta per le scale Scrippi di toilet Scrippi di toilet Ma io mo che devo fa? Cosa? 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 Cosa è successo? C'è di nuovo il cane che abbaia Dove? Qui Vabbè mo mi spaventa di nuovo Ma io Cosa? 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 In quel laggeggio Dove notte dopo notte Prima di scivolare nel sonno I nostri sguardi si intrecciavano Guardando la nostra amata serie tv Solo io Tu e la nostra baica Bajka Che non so cos'è Immagino di dover andare a controllare Are you friendly? Appicc Accentila 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 Ah il pezzo di posa Ingrandire e tenere premuto Per raccogliere il pezzo di foto Palle Scusate 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 Però va tutto bene Devo trovare i pezzi di foto Probabilmente E ora li cerchiamo Li cerchiamo in giro Andrà tutto bene chat Andrà tutto benissimo Non sono Non sto sudando Dalla testa ai piedi Per Per questo gioco Di cavolo Che mi sta facendo Veramente molta paura Ma andrà tutto bene Andrà tutto benissimo Guardiamo Nella 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 Guardiamo E vediamo Vediamo Lala Nella 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 Eh Kat C'è Ok C'è il cane Nella stanza del bambino Non mi spaventare ti prego Non mi spaventare ti scongiuro Non mi spaventare al caso Che è stato? Grazie In quel luogo dove ogni volta avrei voluto assisterti Nel pulire i nostri abiti comuni Dalla sporcizia quotidiana Se solo potessimo riavvolgere il tempo Are you friendly? Ah Non mi sembrava molto Sinceramente Can you help me? Chiaro Che sta succedendo? Si mi sta gaslightando potente Allora lei non gli farà Vai che hai il cane Are you friendly Sta minchia Possiamo testare una cosa? Paolo Bonolis Niente non ha funzionato Adesso sembrerò un cretino Non ha funzionato Francis 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 Meganos Allora il fatto è che hanno messo la camera con il computer lontanissimo Quindi che cosa mi devi dire tu? Cioè nel senso Nel fatto di dirmi questo In quel luogo dove avrei voluto pulire i nostri abiti comuni Se solo potessi riavvolgere il tempo Quindi nella stanza Nella stanza della pulizia no? Vuole che vada in bagno Allora io guardo un attimo le telecamere Ma giusto per Giusto per conoscenza Conoscenza comune delle cose no? A pare non ci sia Pare ho detto Ho detto pare Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare Le devo chiedere tipo Cosa è successo? Pulire gli abiti comuni Deve essere questa la stanza no? Cosa vuoi che io faccia? Qui Eccola Madonna Ma sei geniale Palline Ah mi ha spaventato di nuovo Mi ha fatto male dietro al collo Che palle Sono finite le cose? Oh il cane What the dog doing? Allora Fantasma è romano Digli che la carbonara È meglio con la panna Il cane dorme Qui non c'è nessuno È il momento di andare A rimettere le cose Nelle cose? Mi spaventare Ok Mettiamo Allora usate lo zoom Per selezionare E spostarvi con la rotellina Del mouse Allora questo Sicuro va Così Sistemato Minchia ma quante me ne mancano? Allora usate lo zoom L'ho selezionato L'ho selezionato L'ho selezionato Grazie Questo andrà Qua immagino No È giusto Corretto Me ne mancano Secondo me due Non mi spaventare Ti scongiuro Can you help me? Il più meraviglioso Degli amici umani Vi mostrerà la strada Il cane Eh ma il cane Dorme Vabbè dai Sei stata simpatica Cioè è stato un intervento È stato un intervento Comunque Niente di Niente di troppo Esagerato Cane Vuoi fare qualcosa Mo? Il più meraviglioso Degli amici umani Ti mostrerà la strada Procede a dormire Per l'intera durata Del videogame Eh ti devo svegliare? Cioè che devo fare Per Cioè me la devo Me lo devo inventare Come svegliare il cane Scusami No perché Nel caso Cioè informami Non Non teniamoci le cose Per noi Chiediamogli qualcos'altro Cosa è successo? Ammazza Perché è molto sintetica Cioè nel senso Cioè almeno tira fuori Uno spunto di conversazione Una barzelletta Un Una Una canzone Cioè Devo Devo per forza giudicare Negativamente I tentativi di Eh Il miglior amico degli umani È il chess Vero Su questo Non ci troviamo d'accordo Finalmente Una cosa Allora Il più meraviglioso Degli amici umani Ti mostrerà la strada In questo caso dorme Quindi Immagino debba triggerare Io qualcosa Allora Nella stanza delle cose Qui troviamo Niente Fico Incredibile Prova a rizzarla Ragazzi Vi prego C'è nella luce Grazie Qui abbiamo qualcos'altro Allora Prima Era giusto Cioè nel senso Nel momento in cui tu pulisci Mi ha fatto andare nel bagno E io ho trovato la cosa Della 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 Ma se non mi dai un altro indizio Scusami come faccio a saperlo Andiamo a vedere nelle telecamere Magari c'è qualcosa E la stanza Delle cose Ci sono delle cose Vero Vero ma dipende da che Dipende da che cose Ok Il cane sta abbagliando di nuovo Che stanza Ah è nel Palle Nel coso Ci vado Con calma Mi ha fatto Peekaboo Sì Abbiamo una luce Per questa stanza Sì Grazie Dogis Dove Che stai facendo Ah Lì Dove mi sono fermato Troppo a lungo Creando arte Con il lavoro Ma distruggendoci Nel processo Ok la stanza Con il dipinto Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare di nuovo Grazie Luce E luce fu Wow È Totti Non è Totti Scusatemi Shot L'ho preso Fatemi fare Pipidi pipidi E ovviamente Doveva essere L'ultimo Il pezzo No No Questo andava bene Qua Era un ex Seconda guerra mondiale No Ah Eccolo qua Wow James Non mi spaventare Ok Ora devo fare Quello che faccio Di solito Cioè Resettare Ho fatto Adesso Guarderò le telecamere Finché il cane Non farà tipo Schipidi papidi Ok Ok Lo abbiamo Shhh Chat 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 Ok Ok Ha detto che è amichevole Ha detto che è amichevole Chat In quel luogo dove non sono mai esistito veramente Dove avremmo potuto creare innumerevoli ricordi culinari Vabbè si capisce che è la cucina A meno che culinari non sia un doppio senso Vabbè è simpatico Simpatico l'intervento Simpatico Decisamente molto simpatico Veramente molto simpatico Incredibili ricordi culinari Wow Culi Cosa Che schifo Stavo pensando agli schibi di toilet ragazzi Perdonatemi Dove Fornelli Fornellus Ma dai ma ce n'è un'altra Ma che due palle Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Grazie chat Grazie Grazie chat Ok andiamo a registrare anche l'ultima Voleva solo un autografo Così a me mi sta facendo Fai servizietti Qua in dentro la casa Adeguata Adeguata Non mi spaventare Ti prego Ok C'abbiamo il collo Questo cos'è Questo è nuovo Ah è quello che ho preso in cucina Certo Ha senso Sì Sei un animale comunque Amica Ok vediamo dov'è il cane Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo l'ultima E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima Sono fiducioso Cane Vabbè stanza in mezzo Stanza in mezzo chat Finalmente scopriremo Che cosa c'è scritto In questa foto Davvero disordinata Spaventoni Ah Sei amichevole? Sei amichevole? Ah meno male Immaginate quando non è amichevole Mi caco addosso Altro che Ok torniamo qua dentro Allora L'ultimo pezzo In quel regno dove hai nutrito la tua bellezza impeccabile Ungendo teneramente la tua pelle con i lisir profumati Le tue stesse mani inumidite Franca Hai rotto le palle Aveva detto che era amichevole la stronza Stronza vecchia Sì hai visto E' la mia versione donna Posso avere la luce? Can I have The light please? Non si vede niente Non si vede niente Raga mi sono Mi sono perduto Chat non so dove Come si esce Non vedo Questo è un problema Eh mi sono perduto Cioè non Cioè non riesco a uscire Ah ok ok ci sono Ti prego Dammi la luce Per piacere Mi sta diminuendo la sanità mentale Grazie Veramente Dove ti sei insaponato le mani Insaponone E ti sei anche cagato addosso Non mi spaventare Non mi spaventare Ma lei mi dice off course E poi mi salta addosso Vette cari Brunca stronza Sei una stronza sei E chiudimi pure la porta in faccia Tanto a me che me ne fotte Guarda certe volte Veramente eh Manco Manco a fa così Manco a fa così Eh no l'ho chiamata O non chiamata niente Eh Ma guarda Ma guarda se uno Gli devi dire Gli devi dire Sono amichevole E poi Eh L'hai preso Grazie Ok Questo è un altro pezzo Tanto qua Ave Hotmail C'è scritto Rifacciamo La La L'uomo L'uomo Palle L'uomo Palle L'uomo Palle L'uomo Che paura Noi sta il cane Ah qua Bene Non devo fare strada almeno E ci abbiamo scritto qua In un luogo dove tutto è finito E io vago incessantemente Cercandoti amore mio In quel luogo dove tutto è finito E dov'è finito? Che paura Procede a cascare dalla sedia A ogni jumpscare Vero Però dov'è che è tutto finito? Forse lo so Forse lo so Devo andare a vedere qua Se scrivo Crawler Mi esce questa Ad un albero Nel giardino di casa Come faccio ad andare Nel giardino di casa? Il cane è andato via Oh oh Lucia Beh insomma Si capisce Perché ho visto una manina Uscire da lì? E qua è finito Wow Ma non posso aprirla Potete aiutarmi? Chiaro Può aiutarmi anche ad aprire le porte Dato che Dato che non posso farlo io Oh E mo? Ma me l'hai chiusa? Pezzi di immagini del mio passato Del mio passato Sì ma sta Pezzi di immagini Del mio passato Chat Ma io che minchia devo fare? Devo finire l'immagine Ah ma perché me l'ha presa? Finiamolo È il momento chat È il momento Ma non c'è un altro pezzo? Ma non c'è un altro pezzo? No Non c'è l'altro pezzo Non c'è il pezzo Non c'è il pezzo Non c'è il pezzo No Rimettilo a posto pure tu Pezzi di immagini del mio passato Pezzi di immagini del mio passato E io che minchia ne so Allora devo cercare un tostapane Devi andare o in camera o in giardino Non ne ho idea Mi fa piacere Ha detto pezzi di immagini del mio passato Però la cosa porta fino a lì La cosa porta fino a lì Dove sembrava ci fosse Un pezzo di immagine che io avrei dovuto vedere Ma non c'è In giardino Mi sembra Un tempo davvero poco Eeeh Coso per andare Si è riaperta la porta Ma riaprila no? Ti prego riapri la porta Senza che io vada Chat 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 E aprimela sta cazzarola di porta Gesù L'ho chiusa io per questo Ah perché la devo spingere forse No Stiamo risolvendo Stiamo risolvendo Il detective delle cose E non riesco manco a prendere una cazzo di porta Eh sì Era necessario Tieni premuto Sto premendo Non premendo Sto facendo tutte Allora la prossima volta che gli chiedo Mostratemi Mostratemi Ricordatevi Che non lo devo fare Ok Ricordatemelo Meno male che c'è il cane qua Che almeno vede tutto Cosa è successo? Uso della forza Belle ste voci comunque Veramente non mi fanno cacare per niente addosso Sul serio Davvero Veramente Allora Cosa devo fare? Premere Il serious Ho preso pure l'ultimo Il cane c'è L'ho preso Comunque bastava muoverla Bastava muoverla Bastava muoverla Bastava Bastava muoverla Allora andiamo a fare l'ultimo pezzo E dovremmo esserci Non mi spaventare Cretina Ok Ah fammi accendere la luce Eh grazie E abbiamo l'ultimo Ok Giralo E c'è scritto Hobby Di BTS Holtom Holtom E che cazzo Rolo vuol dire? Usa il browser Yeah Guys Internet Holtom Che vuol dire? Il mistero si svelon Holtom Ma scusami Ma non esce Mi spaventa la stronza Holtom Holtom Ragazzi sto leggendo male io le cose Perdonatemi Ah È la N N non M N non M N non M N non M Mo lei mi spaventa 3 2 1 Ci hai provato Ci hai provato Non ci sei riuscita Il coraggio di uno sceriffo eroe 40 anni dall'audace salvataggio della Pennsylvania La piccola città di Greenfield immersa in un paese Esiste una strada È diventata un foro di speranza Questa storia Norata a torre lo sceriffo Holtom Un uomo il cui coraggio e altruismo sono arrivati a definire lo spirito dell'eroismo Dei cuori degli abitanti di Greenfield Era una fredda notte d'autunno dell'82 Quando nella famiglia locale fu bruscamente svegliata dal suono penetrante di un allarme antincendio La fonte del disturbo era la casa dei lontani vicini Dei loro Vicini Consumata da un inferno che minacciava di devorare tutto ciò che incontrava Famiglia intrappolata all'interno Affronta la situazione orribile Non è niente via di fuga Sceriffo Holtom Dei Ha chiamato la Ricevette la chiamata di soccorso Si è precipitato lì Si è trovato di fronte alla scena di puro terrore Fiamme rugivano Blah 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 Sì infatti sto facendo la soglia dell'attenzione Erro assunto Era visibile il fumo denso Risperato Hanno scoraggiato dall'intensità dell'incendio Scende rapidamente Con fiamme che imperversano Ma che palle Potete mettere la versione ADHD Ok Stava rapidamente Stava rapidamente scendendo La situazione si amplificò Li guidò verso la finestra In mezzo al caos Lo sceriffo Holtom Mantenne un'aria di calma E rassicurazione Scortando la famiglia Blah 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 Assicurando loro Oggi a distanza di quattro decenni L'eredità dello sceriffo Holtom Continua a ispirare Il nuove generismo dimostrato Quella notte d'autunno È diventato simbolo di coraggio Umiltà e resilienza Che genere Vabbè li ha salvati Ma da non Quanto Che Che scrittura Per dire Che li ha salvati È la loro momento Mi hanno suonato Chi è Ho capito Ho capito Fammi Accendere la luce Per piacere Non vedo una ciolla Ciospa Volevo dire Grazie Chi è E chi è Amo questo Che noise Ma non si sente niente Ma cosa ho fatto Non è Leonardo Bruciat Grazie per l'informazione Ma quale noise Ma che noise Ma cosa È lei che urla Scusami Perché Perché sta rompendo le palle A urlare Per piacere Ma poi lo sceliffo Con la maglia Con la t-shirt Non l'ho capita Sta cosa Eh Eh Mmm Meet the local hero Who bravely Saved a family Era lui Cioè io ho appena Incontrato Lo sceriffo Olton Sono saltati I fusibili Eh Usate Muovete Spostate Che vuol dire La rotellina Perdonatemi Eh Va bene Allora vi posso dire Pessimo 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 Allora Cerchiamo dove Dove è il cane Dove è il cane Si vede una chosblo Allora ragazzi Questo è Un buon momento Per attivare La campanella Del canale Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare Non mi spaventare Palle Ok A posto E Cane Che schifo Di rumore Signora Per favore Si tolga Dalle Sgaba I am I clean Io pulisco Guarda poi come si muove Sgibidi Babidi Bubidi Babidi Bababa Ma non funziona Non mi funziona Il microfono Ma com Bababa Non mi funziona Il microfono Nel gioco E questo è un problema Non si rivela Il gioco Del microfono Schibidi Tra l'altro Come si regolava La sensibilità Controlli Indietro Dopo si sblocca Ma no Adesso si dovrebbe Sbloccare Acqua Bababa Scabbate Skibidi Babidi Skibidi Babidi Bubidi Questo non va Meglio così Così non ti sente Ma questa è La cosa divertente Di questo gioco Scusami Matemi Skibidi Babidi Che cazzarola è stato? Uffa! Pure il microfono si è stanchato di... Corri, come on! È vero, è probabilmente vero. Che faccio? Chiudo e riapro o vado avanti? Dite che tanto sti cavoli, tanto mi ammazza lo stesso. No, il microfono è collegato, ci sto parlando adesso. Riavvia, chiudi. Chiudi e riapro. Proviamo a chiudere e riaprire. Ah, io non lo sapevo. Allora. Gioco. Facciamo così. Ma mamma, non mica mi fa riniziare da capo. Mi spacco la faccia. Allora, un attimo solo. Chats. Un attimo solo. Chats. Chat, un attimo solo. Allora, facciamo così. Poi facciamo così. Skibidi pa, bidibubidi pa. Oddio, dai! Non è così stupido il gioco. Vi prego, ditemi che non è così stupido il gioco. Vi prego, ditemi che non è così stupido il gioco. No, no, non è che... Dai, non è che devo ricomin... Ma perché devo ricominciare da capo? Scusatemi. Se devo ricominciare da capo e il microfono non funziona... Mi spiace, ragazzi. Eh, questa... Tanto mi spaventa lo stesso. Eh, no, ma non credo sia... Ah, 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 ah. Se il gioco non rileva i suoni dal microfono, non lo rileva. Riavviate il gioco prima di iniziare. Assicuratemi di impostare il microfono corretto nelle impostazioni... Ah, è per quello. E allora forse è vero. Dispositivo di input. Questo. Guardatemi un attimo. Ok, ora dovrebbe andare. Ora forse va, ora forse va, ora forse va, eh. Skibidi pa, pipi, 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 pipi. No, ma... Ah, 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 pa, 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 pa. Ma perché non va? Mannaggia la miseria. Ah, ah. Skibidi, bibidi. Skibidi, bibidi. Eccolo! È tornato, è arrivato, è arrivato. Solo che lo devo abbassare tantissimo, come l'altra volta. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ma dai, ma non ci credo comunque che devo fare... Vabbè, lo faccio di nuovo. So che mi spaventerà, so che mi spaventerà. Controlli, micro... Ba, 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 ba. Ba! Ok, perfetto. Ora ci siamo. Vabbè, abbiamo fatto la parte più fastidiosa, no? Adesso siamo al punto di prima, ci dobbiamo prendere un altro spavento. Questo è certo. Spaventoni? Spaventoni in the caconi? Possiamo accendere la luce? Ti ringrazio, signori. Per il gaming, per il gaming. Scusatemi, fatemi chiudere solo questo. Ok, ora ci siamo. Fatemi rivedere qual era. 8... 8, 9, 2, 6, 3, 0, 7, 4, 1, 5. 0, 7, 4, 1, 5. È la signora delle Zaza. Ehi, madonna, infatti che fastidio, Cori. Non hai idea di quanto mi dia fastidio a me. Gli suoni dei telefoni. A determinati punti della storia ci sono dei checkpoint. È per questo che non ti ha salvato. Bra, ma io sono arrivato abbastanza avanti la volta scorsa. Perciò mi sembra strano. Katy Perry? This is the part of me that you... No, scusatemi. Accendi tutte le luci. Serve? Ma Elisa, non è Taylor Swift. Taylor Swift è Biondas. Io sono misofonico, non sai quanto ti hanno fastidio a me. Misofonico non è per il cibo. Però fico, non sapevo fosse solo... Non... Ah! La live verrà ricaricata sulla sette gaming? No, verrà ricaricata sul canale archivio. Punto esclamativo archivio. No, è per i suoni. Ah, ok. Catch up, ha detto. Catch up. Ha detto, catch up later. Che ha fatto? Questo è un po' rassicurante, devo dire la verità. Oh, mi spaventa. Ecco il primo spavento. Abbasso il volume. Ti ringrazio. Gentilissima. Veramente... Veramente molto carino da parte sua. Ma di stupida cretina. Sì, sì, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Stai calmo. Wow! Indizi. Yeah! Oh! Però questa cosa mi fa lo stesso paura. Mannaggia la miseria. Taylor Swift. Taylor Swift. Ragazzi. Taylor Swift. Ok. Wow! Interessante. Vabbè, in sostanza, sta signora... Puoi andare via? Ti prego. È davvero poco carino da parte tua. Ma sei bloccata? Madonna però, se mi caco addosso lo stesso. Sono proprio un cacone. Allora. La prima ti... Di prima ti sembra una copia di Alex Vance. Non so di che parli. La signora pulisce. Ed è una signora davvero... Poco ordinata, devo dire. Eh, click, clean! Matix, no. Non te la posso cantare la canzone di Taylor Swift. Se no, mi copierai stragano. Smenti di cantare. Schibi di toilet. Adesso... C'è il microfono. Pronto? Chi è? Adesso... Ora arriva il bello. Davvero, dici? Adesso? Pronto? Ma perché? Che cosa vuoi? Ma se io urlo adesso... Schibi di toilet! Niente. Sì. Urla grande cori per una partita free jumpscare. Non funziona così. Funziona. Chi si sta rifugiando nei commenti per non spaventarsi? Brutti caconi, pure voi dovete stare qui con me. Fino alla fine. E abbonatevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sì, sì, vabbè, signora, ho capito. Posso... Posso andare avanti. Pensa... Scema di merda. Devo abbassare un po' la sensibilità, sinceramente. Perché sono sicuro di dire... Ecco, forse è così. Pa, 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 pa. Bene. Ma è grani. Ragazzi, dovete uscire da YouTube Kids. Allora. Che c'è scritto? In quell'aggeggio dove... Notte dopo notte, prima di scivolare nel sonno, i nostri sguardi si intrecciavano. La nostra amata serie TV e il nostro... La nostra baica. In quell'aggeggio dove, prima di scivolare nel sonno, i nostri sguardi si intrecciavano. Stai parlando del letto. Aggeggio, ha detto. Ha detto aggeggio. È il TV? La tab? La tab lo sono, eh? Ah, no. È la televisione che stava in camera. Certo. Ha senso. Sta parte rimane chiusa. Allora. Qua c'è la... Il... 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 Lo switch più fastidioso dell'universo. Perché non si vede affatto. Cerchiamo di trovare un punto di forza. Giù. Su. Ti scongiuro. Ti scongiuro. Allora, Cori. Grazie della donazione, ma io non ho assolutamente fatto quello che hai detto. Perché non mi è acceso la luce? Sì, ma dove sta? Grazie. Allora, sta leggermente sopra qua, più sulla sinistra. Perfetto. Grazie per la foto. Gentilissimo. Posso prenderla? Adesso mi spaventerà, ne sono certo. Wow. Allora, l'uomo... L'uomo... Olè. Sì, Dian, mi saluti? Mi chiamo Sara, ti adoro tantissimo. Ciao, Sara. Allora. È lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì. È qua? What? Non mi spaventare. Non spaventone. Ok. Ok. Thank you, don't spavent. In quel luogo dove ogni volta avrei voluto assistere... Se solo potessi... Ma poi come scrive... Vabbè, il developer l'aveva detto che era tipo... Che non sapeva la lingua, però va bene. Pulire i nostri abiti comuni dalla sporcizia quotidiana. È il bagno? È il bagno. Ma mi spaventa? Adesso mi spaventa, adesso mi spaventa. Vieni qua. Affrontami. Non mi hai fatto paura, cretina. Allora, vi devo dire la verità. Nel... Nell'altro gioco... Accendi la luce. Grazie. Nell'altro gioco... Quello fatto da... Ti sembra il momento? Quello fatto dall'altro sviluppatore... Sempre dallo stesso... Non vedo niente, non vedo. Olè. Olè. Benissimo. Benissimo. Grazie, Cori, per l'abbonamento! Thank you! Thank you! Thank you! Ma non ti uccide? No, mi fa solo paura per il momento. In realtà, se faccio troppo rumore, mi uccide. Però è il momento di andare in bagno. Eh, adesso non si vedrà nulla. Aspettate un secondo. Ma poi aumenta la luminosità, ma non aumenta bene. Ecco, non aumenta la gamma. Aumenta la luminosità. Ok, grazie. Il bagno. Sì, nel bagno dove ci caccavamo addosso una volta. Dove... Ah, no, è nel bagno di sopra. Quello con la lavatrice. Ha molto più senso, devo dire. Ha molto più senso. Signora, si levi dalle palle, per favore. Grazie. Sto cercando di fare una cosa. Ok. Perché il bagno è chiuso? Il bagno è chiuso? Il bagno è chiuso? Perché il bagno è chiuso? Questo non faceva paura. Per niente. Ti ringrazio. Ogni... Ah, pulire i nostri abiti comuni dalla sporcizia. E dove sta il coso? No? Potenza! Ai! Sedia, ma come ci si alza di rank fino allo sgabello? Che cazzo non lo vuol dire? Ai! È stato stupido. Io volevo solo andare a cacare. Era così semplice. Sì, però sta cosa è bastarda, eh. Perché? No, quello devo fare così. E poi... Perché me l'hai dovuta far aprire in questo modo? Che bastardi. Eccolo qua la cazza. Qua la cosa. Mamma mia, che paura. Io volevo solo cacare, esattamente. Cioè, ci voleva poco. Ci voleva poco. Ci voleva poco. Aprimi il coso. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Allora, ne dobbiamo prendere un altro po'. Spero di fare presto. Spero di fare molto presto. In realtà... Già abbiamo tolto grande parte del gameplay. Ora che abbiamo fatto questa cosa qui. Allora, questa va qua. Scoob. Olè. E mo? Dobbiamo vedere dove è il cane, eh. Ci sto provando ad essere veloce, ok? È il gioco che è lento. Ok, vediamo... Non mi spaventare? Ok, sta qua. Posso. Adesso ci si aggirerà di nuovo dentro la casa. Sì. Non gli potevano dare degli scubi snack a sto cane. Luce. Thanks. Dov'è? Ah. Ah, qui. Dove mi sono fermato troppo a lungo creando... Ah, l'arte. Ok. No? No? Grazie. Gentilissima. Gentilissima. Ah, è la faccia di... È totti. È totalmente totti. Guardate. Olè. Oh. Sei stato bravo for the back end. Allora. Non è totti, chat. Non è totti. Sì, Ria. Comunque, dato che ieri era il mio comple, quando mi scade l'abbonamento me lo rifaccio con i soldi che mi hanno dato. Bello. È nel bagno? È nella camera da lettus. Non mi spaventare, non mi spaventare, non mi spaventare. C'è solo un capitano. Mi spaventare! Ok. Camera da letto. Camera da letto. Ciao. Allora, cosa mi devi far vedere? Ah, scritta piccolina dove non sono mai esistite... Ah, ok. La cucina. Che paura, 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 che paura. La cucina, gran luogo la cucina. Sì, la cucina, gran luogo. Dove sta il coso sui fornellis? Yeah. Yeah. Ragazzi, ditemi, dite la verità e non fate i grandi coraggiosi che non siete altro. Scala buia, correte come dei pazzi. Tutti quanti. Scale al buio, come vedete qua. Ok, adesso c'è la luce, ma prima era il buio. Se voi vedete una scala al buio, vi cacate addosso e correte come dei pazzi. Totale. Guardate, quant'è socratico il cane. Ok. Very good. Madonna, ragazzi. Cioè, io non... Io... Ve lo giuro. Cioè, ho 27... Io ho 27 anni. Io ho 27 anni. E voi direte... Sei grande e ancora paura delle... Sì, ragazzi. Paura. Non c'è niente. Delle volte me lo devo pure ricordare. Tipo... Ma è una paura irrazionale. However. Still pauroso. Still cacone. Non mi spaventare. Dov'è? Di nuovo nella camera da letto? Sì, è nella camera da letto. È da un po' che non vedo la signora. Comunque. Questa cosa mi spaventa di più. Ah. È lì. È a posto. Ah, è che per un... Cioè, quando poi non la vedi per un po', secondo me ti spaventa di più. Il cesso di sotto. Finalmente la parte con il cesso di sotto. Che ho... Di cui ho già acceso la luce. Quindi se adesso c'è la luce spenta... Che due palle. Grazie a Dio. Dove hai munito le tue teneri volti di palle, di cose... Dove sta? Eccolo. Molto bene. Molto bene. Ragazzi, non scrivete schipi di dop dop in chat per piacere? Eh? Eh? Ok. Ma dai, ma così un pezzo... Un pezzo piccolissimo, ma... Siete degli infami voi e il... Cazzarola che vi frega. Ok. Di nuovo telefono qua. Dove abbiamo guardato i video di sedi e abbiamo riso troppo. Il cesso, signori. Oh, Dio. Ok. Dove sei? Ah, qua. Perfetto. Ti ringrazio per non aver fatto... Ok, perfetto. In quel luogo dove tutto è finito. Oh! Mm. Sotto. Questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo perché abbiamo letto la wiki. Abbiamo letto la wiki e... Eccoci qua. Dove io ci ho messo 25 minuti. Non mi fai paura, cretina. Invece sì, mi fa molta paura. Ho detto una bugia solo per sembrare grosso. Allora. Posso avere una luce? Lucetta? Lucina? Luciazza? No. Posso... Posso... Cioè, pervien prima c'era la luce di questo posto. Non è fuori. Non è dentro. Vabbè, io mi prendo la cosa. Schibbi di toilet. Schibbi di toilet. Sedi attento alla bonezone. Si scrive bone... Si scrive bonezone. Si scrive. No, bonezone. Eccoci. Eccoci. Cosa ci sarà mai scritto su questo pezzo di carta? Ho sbagliato. E mo? Ok. Che c'è scritto? Houlton. Ok, cerchiamo. Bonton. C'è scritto Houlton. Chat, madonna. Meglio la bonezone che la ballszone, vero? Houlton. Wow. Allora, praticamente, tizio X ha salvato una famiglia dal fuoco. In italiano Claudio Bisio. What? Chi è? Ma a quest'ora... È Houlton. Qui eravamo arrivati l'altra volta. Quindi ci... Scusate. È stato davvero infantile da parte mia. Ci stiamo cagando sotto, Houlton. Con il nuovo video, come procede? Any spoilers? Credo di aver fatto la struttura. C'è stato molto thinking e molta ricerca dietro a questo video. Perché non volevo fare un video banale. Ci sono dei ragionamenti che non sono ancora stati fatti da nessuno, credo. Suppongo. L'ho messo nei posti con Unity, però. Un picco... Va a toccare alcune cose. Letteralmente hai cercato di prenderlo in giro... Quando parli allo stesso modo. Non ho capito. Ora è yapping, è tutto yapping. Yap, 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 yap. Lui è preoccupato del fatto che noi stiamo indagando su Miss Susan. Mmm, qui gatta cicopa, ragazzi. Avete visto? Perché investigare dopo tutti questi anni? Qua mi puzza qualcosa. È puzzone di uno sceriffo. Qua. Ok, allora adesso si dovrebbero... Si sono rotti tutti i fusibili, no? Credo. E invece no. E perché? Ecco perché. Oh oh. Allora, usate lo zoom per selezionare e spostarvi e la rotella del mouse e stick sinistro per ruotare. Zoom per selezio... Dai, ti prego, fammi leggere. Che... Che... Come... Come... Cosa... Devo ruotare? Zoom per se... È la rotella del mouse o lo stick sinistro? Che cazzarola è lo stick sinistro? Ah, la rotella del mouse. Questo non va. Questo non si ruota. Non si ruota un cavolo. Ma cosa devo ruotare? Questo è uno di quei momenti, eh? Zoom per selezionare. Zoom. Zoom. Ma selezionare cosa? Ma io non vedo nulla. Mi hai fatto paura. A, B, C, D, E, F, G. Eh. E come li ruoto? Ma non me li seleziono. Nonna, mica sai come si rimette la correnta. Ma è giusto per sapere. È giusto per... Usate lo zoom per selezionarvi. E spostarvi. Sono da trovare. Ma io sono al buio. No, ma sono al buio. Io come li trovo? Eh, già ci ho provato. Non sono da trovare. Non avevi una torcia? Oh. Sprint. Visione notturna. Fotocamera precedente. Croce? Croce? What? Ragazzi, scusatemi, eh. Night vision. Night vision. E che cazzo no la sono? Crouch. Zoom. Flashlight. No. No. No, 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 no Bastarda. Questa è bastarda. Eh, chi l'ha visto, l'ha visto. Chi l'ha visto, l'ha visto. Ok. Can you help me? Sì, nonna, però mi devi dire come cazzo la devo rimettere. E come la ristoro? Che c'è? Che era quel suo? Madonna, raga, il gioco è diventato 30.000 volte più spaventoso solo per questa cacata. Devo trovare i fusibili. Grazie. E dove staranno mai i fusibili? Fusibili. Questo è un fusibile? No. Un po' fucked up comunque questa cosa. Davvero fucked up. Questo è un fusibile? No, è un sapono. Allora, a casa mia? Sì, Sara. Non hai visto i post community? Guarda che ti vedo, eh. Non c'è bisogno che fai tutto sto giro di pizza, eh. Lo so che mi vuoi spaventare. Eh, cretina. Ok, andiamo a vedere dove stanno i fusibili. Mannaggia alla miseria. Fusibili. Meglio i fusili o i fusibili? Credo entrambi. Un fusibile! Molto bene. Allora, i fusili sono buonissimi. Porca puttana. Fusili a ragù, raga. Cioè, non c'è paragone. Ma ne devo mettere uno alla volta o posso tipo prenderli tutti e poi pensarci dopo? Comunque, secondo me, lei era una donna... Cioè, secondo... Allora, dicevano tutti che era una brava donna. Per questo mi sembra... Mi sembra davvero cattivo da parte di qualcuno ucciderla. Sincerissimissimamente. Cioè, per me è un po' cattivo, no? Un po' cattivo da parte di chi l'ha uccisa, no? Cioè, secondo me la signora è una gran... È simpatica, almeno. Per quanto meno... Perché qua la luce va e viene se non c'è corrente? Madonna, sono in una stricca allucinante. Credo stia dormendo il cane. Vuoi prenderlo o vuoi tenertelo per te? Ah, grazie. Quello è un regg... Sembra il modo di lasciare le cose... Vabbè, è casa loro. Fanno quello che vogliono. Vado. Ma ce ne sono altri, no? C'è solo Freddy Fazbear. Comunque a saperlo... A saperlo non avrei... Paura? Che paura, mannaggia la miseria. Un altro fusibile. Ragazzi, ho perso il conto di quanti erano. Non che io abbia mai contato. Che paura. Adesso mi spaventa. Adesso la stronza mi spaventa. Per quanto possa essere una grande e simpatica signora. Sbatteva la testa? Ma sei pazza? Ti fai male? Allora, ne ho presi un po'. Andiamo a vedere quanti ne sono. E... E bene. Eccoli qua. Ho le... Allora. Eh... Fusibile rosso. Fusibile rosso. Qua. E ruota così. Godo. Eh... Arancione. Verde. Verde è questo. Olè. Poi abbiamo... Celestino. Che non è la squadra dei Celestini. Chi si ricorda il cartone? Vero Chad. Questo non l'ha messo. Non è questo? Sì che è questo. Fra, perché non va? È Celeste. Metto prima gli altri. Ci pensiamo dopo. Questo va così. Poi c'è il Fuskias. Ah, prima il nero. Quanto pare. Il nero va qua su. Ok. Ci ha provato a spaventarmi. Ci ha provato. Ma io stavo facendo altro, ragazzi. Bisogna prima pensare agli affari di casa. E poi... E poi a queste cose. Ale. Mi, ma quanti ce ne stanno per essere così? Vabbè. Vuoi... Ma perché non me lo fa mettere? Il blu va così? Ok. Uschia. Molto interessante, ragazzi. Questa parte è la mia preferita del gioco. Allora, me ne mancano uno, due, tre, quattro, cinque, teoricamente. E dove cazzarola saranno... Cinque. E adesso dobbiamo metterci a cercare ogni angolo di questa stupida casa. Stupida per modo di dire, signora. Allora, uno. Prendilo. Il cane dov'è? È lì? Non faresti mai del male al tuo cane. Se sto vicino al cane non mi farai del male. Sto cagando addosso. Uno. Che mi fai fare ste cose? Me ne mancano quattro. Me ne mancano quattro. Quattro, 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 quattro. E poi perché non ce ne sono qua, scusami? Li abbiamo messi tutti in dei luoghi particolari. Così da farti perdere... Chi è che mette i fusibili? Qua non c'è. Qua non c'è. Non ci credo... Oh, qua c'è! Ne mancano tre. Tre, tre, tre. Non c'è niente. Allora, ragazzi, un attimo. Un attimo. Oh mio Dio, che stress sto gioco. Che stress sto gioco. Che stress. Che minchia ne so, frate. Catorgina, ho detto bene adesso il tuo nome. Ragazzi, voi dovete solo dirmi dove stanno i fusibili. Poi nessuno si farà male. Credo. Vabbè, intanto mettiamo questi perché così mi... Spezzo un po'. La mia cacca addosso gameplay. Allora, questo è bianco. Quindi andrà vicino al... Nero. Questo è giallo e andrà qua. È good. Ma c'è questo che è ancora... Ma perché forse lo tratta come questo, vedi? E te pareva. Ce ne mancano tre. Tre. Allora. Dato che evidentemente prima non sono stato abbastanza attento. È ora di tornare su. Cominciamo da questa stanza. Qua non c'è un chobbi. Ti immagini se uno dei fusibili era su... Sulla cosa del bambino. Oh. 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 L'ho detto bene perché me l'hai fatto notare. Però, sai, nel leggere veloce i nomi... È a fianco. Oh. Siete dei geni. Chi cazzo l'avevo vista? L'aveva... Ah, chi l'aveva visto? Ne mancano due. Due. Allora, qua ne abbiamo presi tre, quindi mi sembra... Mi sembrerebbe strano trovarne un altro. E invece ne abbiamo trovato un altro. Ok, chat. Uno solo. Ne manca uno. Non mi fa morire. Questa era... Chiusa? Uno. Manca uno. Eccolo, codo! Madonna che strizza culo. Madonna che strizza culo sto gioco. Olè. We did it. Clap in the chat, boys. Clap in the chat. Allora, ci va qua. Questo va qua. Andà su. Perfetto. E questo? Va così. Perché questo non va? Grazie. 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 Ora fa leggermente meno paura. Posso avere un clap in the chat? Grazie, boy. Grazie. 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 Grazie infinite, chat. Senza il vostro supporto, non so dove sarei. Non so dove sarei. E luce fu, Mr. Ever. Enervage. Enervage. Ti chiamerò. Fico. Il nome è figo. È tutto acceso, tra l'altro. Come piace a me. Perché ho una pistola? Eliminate the oppressor or lose everything you've uncovered. Raga, sono un boss agli FPS. Mi frega nessuno. È giù. Sta salendo. Pizzo da... Dai, dai. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. No clip? No clip? Where are you? Oh, ho devo ricaricare. Cazzo. Oh. 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 Fortnite. 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 For... Oh, ricarica. Fortnite. 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 Ahia, le palle. Fortnite. 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 Quanti cazzarolli di... Ma che cazzarolli vuoi? Quanti colpi ci vogliono? Motherfucker. Beh, insomma, il cadavere è in... Un posto... E mo? Let's go, baby! Posso fare un'ultima musica di casa? È motto. It was him all along. Mi sta cercando di dire qualcosa la signora? Allora, il computer è spento. Madonna che... Ma va? No! 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 In una rivelazione il detective Viat ha svelato l'oscura verità dietro la tragica morte di Miss Susan e suo marito Il colpevole non era altro che il riverito sceriffo Robert Holton Giat, un uomo autorevole e rispettato nella comunità La gelosia lo aveva consumato quando Miss Susan ha scelto qualcun altro al suo posto Facendo che lui commettesse un terribile atto di vendetta Porca puttana, ma serio Lo sceriffo, lo sceriffo Alton ha manipolato il giornale locale facendosi che lui fosse l'eroe Mascherando ogni suo intento, no i suoi peccati sostanzialmente Ha orchestrato, nooo Ha orchestrato l'incendio che ha colpito la casa di Miss Susan e la sua famiglia No, mentre la sua famiglia stava tipo cenando Facendo finire la loro vita Facendo sì che lo dipingessero come eroe Sì sì Ma non è stato abbastanza, è andato oltre Con coating non so che cosa vuol dire Tipo Sarà tipo Con coating che può essere Vabbè, orchestrando questa sua falsa narrativa di eroismo per coprire le sue tracce Incredibile, incredibile Miss Susan Che non Far from, cioè nel senso Che non avrebbe mai Che non avrebbe mai commesso il suicidio Come hanno Come i report hanno I report fabbricati suggerivano Nooo È stata trovata Incinta Quando hanno esaminato il suo corpo Pesante Ora c'è scritto Tratto da una storia Veda, oddio La depravazione Dello Sherry Fulton Non conosceva limite God damn Pesante Ancora Yet in the fact that Ah, bellissimo Allora, praticamente noi Dato che abbiamo fatto Dato che abbiamo scoperto la verità Siamo diventati i paladini della giustizia E mettendo insieme tutte le prove Abbiamo smascherato lo Sherry Fulton E l'abbiamo portato alla giustizia Ha portato alla giustizia Ni perché lo abbiamo tipo sparato E io non sono a fuoco Mannaggia la miseria Ok Fico Quando è arrivata la giustizia Ghiat Era in lacrime Eroe però Del Tragedia Blablabla Risolto Papi 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 Playtime 2 Non lo so Non abbiamo sparato Neanche gli abbiamo sparato Bello Mi è piaciuto anche questo Allora, devo dire Questa volta Al contrario dell'ultima volta Ho usato molto meno I comandi vocali Non perché io non li potessi utilizzare Anche se comunque Era abbastanza strano utilizzarli Ma ho notato proprio Come l'altra volta Era heavily dependent Cioè era proprio Cioè Il mio gameplay dipendeva Dal fatto che chiedessi Ok Dove devo andare Cosa devo fare Qual è Cosa mi suggerisci di fare Boh Non lo so Secondo me Hai fatto talmente tanto la cacation Che non sai parlare in Italia Vero? Vero Are you friendly? Ve lo ricordate? Are you friendly? Perché io dovevo capire Se mi potevo muovere Se non mi potevo muovere In questo caso È stato molto meno Però comunque è bello Mi è piaciuto Mi è piaciuto E tra l'altro Al contrario dell'ultima volta Che c'era uscito Il finale cattivo Stavolta siamo riusciti A fare il finale buono Vi posso dire Questo genere di gioco Mi piace Mi piace chat Mi piace Sono molto felice Quando ti donavo Mi cacavi Quando ti donavo E ti cacavi Ah sì perché l'altra volta Avevo messo Avevo messo Questa volta Non si può fare Perché siamo su YouTube Però avevo messo I sound effects Saltato meno Balletto strano Vedi? Vedete che questi qui Erano tutti quelli E anche nell'altro gioco C'erano Ma nell'altro gioco Io ero un'arte Facevo veramente In continuazione Do something What happened? Can you see me? What do you want? Perché dovevo capire Dove era Dove era il mostro Cosa dovevo fare In che stanza dovevo andare E invece adesso Il fatto che forse Hanno messo il cane Boh non lo so Non mi è piaciuto Il cane non mi è piaciuto Is anyone there Sì esattamente Prossimo horror Skibi di Toilet Vi ammazzo Ve lo giusto